Regia, qual'è il programma odierno? Promozione ai prodotti. Cos'è che dobbiamo promuovere oggi? Oggi abbiamo uno smartwatch. Ah, quegli apparecchietti che si mettono, che ti danno pressione, battitocardia con molti sport, i passi. Esatto. Carino quello, dai fammelo avere. Ma se mi andavate una ragazzina, una valletta, magari minigonna, carina, mi pareva brutto. Sergio, abbiamo problemi di budget. Come sempre, è sempre così sta storia. Vai in onda tra 5 secondi. 4, 3, 2, 1, sei in onda. Amici del canale, buongiorno. Oggi abbiamo tra le mani questo TicWatch Pro 3 Ultra GPS che mi è stato appena recapitato. Sembrerebbe essere sulla carta un oggetto molto interessante, quegli smartwatch multisport. Per cui direi che possiamo procedere nel modo classico. Intanto facciamo un unboxing, poi vedremo le caratteristiche tecniche sia del software che proprio caratteristiche costruttive. Infine una prova su strada ed è ultimo le considerazioni per vedere le cose belle e eventualmente le cose brutte, sempre secondo il mio personalissimo parere. Partiamo quindi con l'unboxing. Come si vede, la confezione è molto semplice. Sul retto della scatola vengono riportate alcune delle caratteristiche salienti dell'orologio, tipo due lati della batteria, la presenza di un GPS incorporato e altre peculiarità che però vedremo meglio nel dettaglio. Una volta aperto il box di cartone troviamo una guida rapida e quindi l'orologio vero e proprio, con il suo cavo di ricarica USB dedicato e un manuale informazioni sulla sicurezza. Ma vediamo da vicino le caratteristiche salienti. Lo smartwatch è gestito da un processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100 con 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna dove immagazzinare musica e dati. L'orologio monta un vetro detto Corning Gorilla che ne garantisce una maggiore resistenza a urti e graffi. Quanto alla costruzione questa segue gli standard militari 810G mentre è garantito waterproof secondo lo standard IP68. Sul lato destro tra i due pulsanti di controllo c'è un microfono mentre sul lato sinistro troviamo gli speakers. Sul fondo oltre all'attacco per la ricarica troviamo sensori utilizzati per monitorare battito cardiaco e saturazione del sangue. Ha il polso veste grande con i suoi 47 mm che è vero che ne garantiscono una buona visibilità ma non è proprio il massimo su polsi di piccole dimensioni. Una volta acceso il nostro orologio attesi pochi secondi dopo il logo di presentazione la prima cosa che ci compare è una selezione di lingue tra le quali scegliere quella che vogliamo utilizzare, nel nostro caso l'italiano. Selezionate la lingua in calcio al lungo messaggio contenente il contratto di utilizzo dell'orologio e del software per continuare dobbiamo premere sulla scritta della avvenuta lettura. Per poter proseguire l'orologio ci chiede di scaricare da Google Play il software Wear OS indispensabile per poter connettere lo smartwatch al nostro telefonino. Una volta installato ed avviato il software avvia la configurazione. L'opzione Bluetooth deve essere ovviamente in funzione di modo che il cellulare possa trovare e connettere il TicWatch. Dando ok al messaggio per la richiesta di associazione comincia la configurazione vera e propria. Possiamo intanto scegliere uno o più account di post elettronica da associare al dispositivo. Una volta che l'account è copiato, inserita la password della nostra post elettronica avviene la connessione. Va poi accettata la sincronizzazione dei contatti per la gestione dei messaggi e per effettuare e gestire le telefonate con il nostro orologio. Stessa cosa va fatta per gli SMS e per i WhatsApp. Possiamo infine sincronizzare anche il calendario di Google per la notifica degli eventi registrati. E in pochi minuti la configurazione è arrivata a conclusione. Occorre quindi scaricare un altro software da Google Play che si chiama Mobvoi e che una volta scaricato e acceso va configurato per la connessione all'orologio ed è qui che verranno scaricati e memorizzati tutti i dati inerenti alle nostre attività giornaliere. Numero dei passi, frequenza cardiaca, saturazione del sangue, livello di stress e molto altro ancora. Tra le caratteristiche interessante è quella del dual monitor con un primo monitor LCD a basso consumo che si può retroilluminare per poter passare poi con un pulsante al monitor AMOLED ad alta definizione. Quanto alle funzioni, col pulsante superiore si apre la schermata di accesso a una lunga serie di widget quali Voice Memo, Torcia, Telefono, Accesso a Spotify, Dati Meteo e molto altro. Col tasto inferiore si apre invece la selezione per la scelta della tipologia dell'attività sportiva che si vuole iniziare. Scorrendo dall'alto in basso il monitor touchscreen si accede alla pagina per numerose impostazioni, mentre dal basso in alto si possono leggere tutte le notifiche, le mail e i messaggi ricevuti. Da sinistra a destra troviamo gli avvisi di Google Calendar, i dati meteo, la frequenza cardiaca istantanea e la saturazione del sangue. Se si vuole iniziare un'attività usando il GPS, ovviamente all'aperto, occorre selezionare l'attività scelta e aspettare la comunicazione di avvenuto aggancio ai satelliti e quindi dare il via al cronometro. Per interrompere l'attività, sempre utilizzando il touchscreen, basta arrestare il cronometro e i dati verranno automaticamente memorizzati. Come ho detto fin dall'inizio, vediamo di analizzare le cose che mi sono piaciute e quelle che mi sono piaciute di meno. Cominciamo da quelle che mi sono piaciute. Innanzitutto il GPS integrato, che abbiamo visto che una volta acceso si è attraverso quando noi cominciamo a selezionare una delle varie attività sportive, ha una velocità molto rapida di aggancio ai satelliti, molto interessante. Bella la presenza del dual display, cioè quello in LCD e quello in AMOLED ad alta definizione. Tra l'altro entrambi possono essere customizzati sia per quello che riguarda i colori sia per quello che riguarda l'aspetto. Ricordo che nella versione AMOLED c'è molto più consumo, nella versione LCD il nostro orologio consuma molto di meno e la durata della batteria è decisamente più lunga. Mi piace anche il fatto che durante lo svolgimento di un'attività sportiva possiamo utilizzare il nostro orologio per rispondere al telefono senza dover interrompere l'attività, senza quindi dover andare, se siamo in bicicletta, andare a cercare il telefono o nella sacca o nello zaino o da qualche parte. È una funzione che ritengo tutto sommato utile, sempre che uno voglia rispondere al telefono durante un'attività sportiva. L'orologio arriva con 8 GB di memoria interna, che può essere utilizzata per immagazzinare dati, ma anche la musica, che può essere quindi ascoltata in qualunque momento. Ma molto utile il fatto che, sempre durante la nostra attività, noi possiamo ricevere sia gli SMS, sia i WhatsApp, sia le mail, visto che possiamo configurare più account già al momento della sua accensione. Una cosa che ho scoperto tra le varie feature del nostro smartwatch è quella che può essere utilizzato per fare i paghamenti tramite Google Pay, analogamente a quello che noi facciamo utilizzando il nostro smartphone. Beh, direi pratico. La precisione della lettura della frequenza cardiaca è buona. Dico questo perché la lettura avviene tramite via ottica. E noi sappiamo che la via ottica non è sempre molto precisa. Io comunque ho avuto modo di testarlo con le fasce cardio, che lavorando sugli impulsi elettrici hanno una precisione decisamente migliore. E diciamo che tutto sommato i dati sono attendibili. La stessa cosa la posso dire per quello che riguarda i dati sulla saturazione del sangue. Ho avuto modo di paragonarlo con delle apparecature elettromedicali più sofisticate, quelle ospedaliere, che utilizzo ogni tanto in casa, e dove la differenza di dati era veramente risibile. È anche interessante la durata della batteria, che arriva a 72 ore in quello che viene chiamato lo smart mode, 20 ore se noi usiamo il GPS sempre acceso. E questo dice la casa, io non ho avuto modo di verificarlo perché non ce l'ho da così tanto tempo, fino a 45 giorni a patto di disattivare tutti i sensori e tutte le funzioni. Quindi usandolo come un orologio normale. L'orologio abbiamo detto è impermeabile, ma non subacqueo. La selezione di sport in cui può essere utilizzato questo smartwatch per monitorare la nostra attività, monitorare i miglioramenti, monitorare gli allenamenti è impressionante. Si parla di più di 100 attività, tra cui ovviamente la camminata, la corsa, la corsa in bicicletta, la mountain bike, l'arrampicata, il norwalking, la canoa, il canottaggio, insomma veramente è una moltitudine. Ci sono poi alcune funzioni come il grafico dell'affaticamento mentale, quello del livello energetico, la valutazione dello stress d'allenamento quotidiano, quello sulla qualità del sonno. Io non esprimo una mia opinione né in senso positivo né in senso negativo perché non conoscendo i parametri su cui vengono fatte queste valutazioni non mi sento veramente di esprimere alcuna opinione personale. Tra le cose positive direi infine il prezzo, che direi ottimo, soprattutto paragonato ad altri orologi con pari caratteristiche, magari di brand più blasonati, a cui mi pare che abbia veramente ben poco da invidiare. Una osservazione che non è né positiva né negativa riguardo al fatto che questo orologio è un attrazzo molto completo ma anche complesso, nel senso che è forse più indicato ai ragazzini molto più abituati a smanitare con il monitor touchscreen che le persone come me di una certa età che hanno meno dimestichezza con queste funzionalità. Bisogna dedicarci del tempo a leggere i manuali di istruzioni. È una cosa che non si fa più, però andrebbe fatta. Passiamo quindi alle cose che mi sono piaciute di meno. Primo la necessità di scaricare ben due software. Non ho capito perché non hanno fatto in modo di scaricarne uno solo. Sarebbe stato anche più pratico. Peccato veniale, per carità. Però sarebbe stato meglio. Per alcuni allenamenti non si può dire che è proprio il massimo. Prendo il mio caso, io lo utilizzerai essenzialmente in bicicletta. In bicicletta, ad esempio, non esiste un attacco a manubrio. Non esiste neanche aftermarket. Quanto meno non l'ho trovato. Ma l'altro dato importante è che una volta che noi abbiamo staccato il telefono e l'abbiamo messo sul manubrio, ovviamente la rilevazione del battito cardiaco non funziona più. E questo soprattutto per quelli che si allenano monitorando la frequenza cardiaca può essere un problema. Sicuramente era ovviabile, se fosse stato possibile, abbinare il nostro smartwatch a una fascia cardio. Ormai le fasce cardio quasi tutte sono con il doppio protocollo Ant Plus e Bluetooth. Non so se questa funzione verrà implementata, magari a richiesta potrebbero farlo, anche perché non richiede una modifica hardware, ma semplicemente un aggiornamento del firmware. Staremo a vedere. Ecco, il calcolo sul consumo delle calorie durante un'attività sportiva è oggettivamente un po' fantasiosa. Non è un difetto soltanto di questo orologio, è un difetto di tutti i smartwatch che io ho avuto modo di utilizzare e di testare. È sempre sovrastimata. Lo dico perché quelli che pensano di impostare magari una dieta a scopo di perdita di peso, di dimagramento, basandosi sul consumo delle calorie, ecco il rischio di finire che si ingrassa. Lo dico perché ho avuto modo di fare delle valutazioni ben più precise utilizzando ad esempio il misuratore di potenza collegato alla bicicletta. Il misuratore di potenza è un apparecchio hardware che ha con precisione massima, oltre a tanti dati, anche il consumo calorico. E la differenza tra il consumo calorico oggettivo e quello calcolato dallo smartwatch è veramente notevole. Occhio perché non è un dato attendibile. Software di gestione dati mi pare ancora un po' coacerbo. Sarà che forse io sono abituato anche alla gestione degli altri software per la gestione dei dati di allenamento, però non mi è sembrato il massimo. Tra l'altro ha qualche bug, soprattutto legato a delle difficoltà sulla connessione Bluetooth, che ogni tanto vacilla un poco. In sostanza, è un prodotto da consigliare? Ma io direi di sì, soprattutto per coloro che usano i telefonini basati sul sistema Android. Anzi, direi che date le caratteristiche, è un prodotto altamente concorrenziale. Detto questo, io finisco la mia birra. Noi ci sentiamo alla prossima e auguro buone pedalate a tutti. Cheers!